L'Appennino è un orizzonte, equilibrio millenario tra natura e cultura. Nello spazio dell'affetto e del futuro, di paesaggi senza tempo che ci parlano ancora e prospettive da scoprire stagione per stagione. L'Appennino è un paesaggio, un paesaggio interiore, dolce, struggente e accogliente. Che cos'è l'Appennino? L'Appennino è un'avventura, un viaggio su due ruote. L'Appennino è un bike adventure. Vino a trovarci a Mercatello sul Metauro, nelle Marche, in provincia di Pesa Urbino.